Il giocatore Sinich Partiamo da... chi è Lorenzo Sinich? Non ti conosciamo molto, hai fatto una breve esperienza da Samp, ma dobbiamo ancora conoscere il giocatore Sinich. Ciao a tutti. Ciao. Sono Lorenzo. Io ho giocato prima Sampdoria in Heidux Palato. Ho giocato 30 game. Dopo questo ho giocato in Sampdoria e ho giocato... Ho giocato prima di giocare a Sampdoria e ho giocato in Heidux di Spalto. Abbiamo parlato con l'allenatore che avevo il dire di giocare, quindi abbiamo trovato una soluzione che fosse una soluzione vantaggiosa per tutti e Empoli era sicuramente una piazza dove posso giocare e sono molto qua per fare l'area migliore di me. Ho parlato con l'Invister, Giampaolo Sieri ha detto un po' dell'atmosfera in Cech che è una piazza adatta per un giovane. Sì, ho parlato con Giampaolo. Ho parlato con gli altri ragazzi di Empoli. Ho parlato con gli altri ragazzi di Empoli. Ho parlato con gli ragazzi di Empoli. e ho parlato con gli altri ragazzi di Empoli. Ho parlato con gli altri ragazzi di Empoli. Ho parlato con i tre ragazzi di Empoli. Quando ero giovane in Heidux, il mio coach è Igor Tudor. Ho parlato con i tre ragazzi di Empoli e ho parlato di come spazio. Ho parlato con Gio. Ma questo senza... Ha giocato con questo sistema di defensivo, quando era con Tutor con i giovani di Realme in Spalaco. Chiaramente il passaggio dalla palla all'uomo, la palla è venuto quando l'avanzato a parare con Giampaolo. Quindi è quando è in Italia. Se questi sei mesi che ha passato la Sampson sono stati belli più che altro, visto che non ha praticamente giocato, di ambientamento per conoscere l'Italia e il calcio in Areano. Tutto chiaro con lui, è chiaro che l'italiano non è ancora sufficiente, però capisce quando gli si parla lentamente, gli è più difficile rispondere in italiano ovviamente, quindi è più facile parlare in inglese. Che stagione ad Empoli sarà per te, quanto è importante questa stagione per la tua crescita professionale? Penso che per il gioco è il migliore quando gioca. Giocare cinque partite in Sampdoria è sicuramente molto meno utile per vissuta la sua crescita che non giocare 35 partite, perché lui è una concetta, tra virgolette, egoistica, per mettersi a disposizione e per il suo futuro, è chiaro che lui ovviamente spera di contribuire come tutti e ha un buon esito della stagione dell'Empoli.